A Lanterna presenta questo disco inciso con la passione di chi vuole ancora trovare qualcosa di buono in questa nostra vecchia Genova. Lanterna in prova è stato pensato per trasmettere lo spirito di amicizia e voglia di stare assieme dei canterini che formano la squadra, nel momento più delicato e al tempo stesso giocoso. La prova. La non perfetta esecuzione e i rumori di sottofondo caratterizzano appunto questa particolarità. Buon divertimento. Grazie. E vabbè ma freddo, se arriviamo al fondo viene se non la c'è un'altra volta, perché se non si trascendo. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. 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 tre. a tutti. 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 si. a tutti. a tutti. si. a tutti. 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 a tutti.